Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono MrMology, siamo qui con Mike. Visto che non è potuto venire nella intervista tripa e non sono morto, abbiamo deciso di fare insieme questa serie, noi tutti crediamo una miniserie, diciamo. Ragazzi avevamo intenzione di fare una specie di Minecraft Hardcore, metteremo la modalità più difficile sulla bedrock, la difficile, la prima volta che moriremo, finirà per noi il gioco, cioè se muori lui io continuo perché lui chi lo vuole, però, forse muore anche l'altro, insomma, finisce il gioco. Mordi tutti. Io ho una non dominante. Boh, tu sei, scrivi quella destra o quella sinistra? La destra? La sinistra è quella non dominante. Oh! 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 Ah, eh, oh! Aspetta! No, ma dobbiamo trovare la chiesa, però. Mi sa che non è sponata perché siamo sponati sott'acqua. Io direi di fare un secondo tentativo. Lo sa che è brutto, lei. È brutto. Finita la serie. Beh, io inizierei subito scavando... Ma siamo su un'isoletta? Non ci credo. Io vado nell'altra isoletta. È pieno di mucche e pecore. Ma non c'è niente, guarda. Ma è un'isoletta piccola, io pensavo che magari dietro c'era qualcosa, po'. Arrivo! Ma siamo in difficile, qua non c'è nessuno. Eh no! C'era due... Oddio! C'è il templio! Non abbiamo nemmeno iniziato, abbiamo trovato il templio. Non è il templio. Eh sì che è lui. No, sì. Sì, è lui. Via! Ti sono ricordati, ami! Tu ammazzale, intanto io faccio una mini casa. Oddio, c'è una strega. Muoviti! No, ce ne sono due! Muoviti! È pieno di strega. No, 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 la taccia! Ok. È impossibile giocare in arte, è ancora impossibile. No. No, cos'è successo? Spacca il letto! Oddio! Tutti i cuori, tutti i cuori, cioè tutti... Ok. Siamo ansi... Io avevo appena detto, siamo al sicuro, ne ho sponato una dietro di me. Non lo vuoi? Oddio, no! Oddio! 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 Ah! No! No, no, no! Dov'è? Ah, è qua, vaff... Strega... Non ci credo! Vai, partiamo perfetti. Prendi tutto, tutti i fiori che trovi prendi. Vi ci servirà per fare le rete. Ok, c'è un golem, spero non mi attacchi. Si, carota. Oh, buongiorno, io questa magari me la porto a casa. Wow, ho trovato due letti, va bene. Ok, golem! Hai picchiato un villager! Occhio! Occhio, scappa! Magari mi colpisce! Sì, ma così non vale, è venduta sta partita. Non sta andando. Non mi insegui, guardalo, sei qualche altro. È morto. È morto. Eh, sta campanella è così così, me la porto a casa. Wow! Wow! Sì! Il primo tentativo! Prima spada. Oh, un villaggio! Stavolta è vero. Oh, lì ci sono smeraldi per forza, in cui nel deserto. Oh, io prendo tutto. Oh, il cartografo! Uh! Non te ne lo trovo. Oddio, scappa! Oddio! Così io lo posso menare, ma non mi può colpire. Incredibile. Mi dispiace, ma capisci che... Uh, ferro. Mi serve ferro. Oh, dai pesce! Posso prendere il mio gatto! Vieni qua. Dov'è il gatto? Guarda che anche se vai forte, poi vieni da te. Eh, ho paura di averlo lasciato se tu. Invece no. Sempre me. L'ultimo! Sei un gatto di me. Che ne saranno? Ho tratto un altro villaggio. Sono due villaggi, ci sono due chiese. Oh! Un villaggio? È tu? Magic. No, non è il tuo. No, c'è uno zombie. Ci sono più di uno zombie. Oddio, oddio. Gattuccio mio, dove sei? Bravo, gattuccio mio. Dormi! È un attimo. Ho messo il più letto. Vieni in chiesa. Oddio! Pure il ca... Adesso lo devi affrontare, siamo in piena notte. Ma mi puoi andare almeno alla spada. No, ti puoi picchiare, immagini. Pure un creeper. Ma... Ma... Grandissimo. Tutti qua. Guarda, guarda. Zombie villaggio è tutti. No! Vabbè, ma è impossibile. Un problema dopo l'altro. Oh, grande, gattuccio. Mi ha portato una zampa di coniglio. Ma che mi dici, eh? Guarda, po' che figo. No, gattuccio, ma che fai? Fammi aprire la cassa. Via. Scegli. No. No, gattuccio, ma come... Perché? Se mi prendi otto di pietra, posso per la prunaccia e iniziamo a cucinare il cibo. Cioè, ma tu hai 49 di legno e non me lo dici? Io non lo sapevo. Ho scavato un po'. Vai. Eh, ma non ho potuto lasciare. Aumenta la luminosità. Sì, ma ti muovi a trovare qualcosa o... Caverna? Vai. Entriamo e andiamo a morire. No, ma dobbiamo entrare da... Non ci credo. Sì. Sì. Eh, eh. Madonna, è volato via, mi sono spaventato. Abbiamo un stack e dieci di ferro, signori. Che magica. Mi basta solo incertarlo e poi sono contento. Ops, qua c'è ben... Come sei messo? Non è possibile. È pieno di casette. Sul topo? Vai qua. Carabone. Una mappa del tesoro! Una mappa! Eh, non ci credo, dai! Ma sì, chiudiamoci, dai! Che si finisce la serie, eh? Ragazzi, è finita. Qui finisce la nostra piccola avventura. Se vi è piaciuto lasciate un like qua sotto, commentate, iscrivetevi. E noi ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao! Ciao!